buon pomeriggio a tutti e bentrovati agli accessibility days stiamo per cominciare con la sessione pomeridiana e inizierà proprio per noi Antonio Giovanni Schiavone con la sua presentazione La bella e la bestia fanno parte della stessa favola. Prego Antonio. Grazie Laura e buongiorno a tutti. Io sono Antonio Giovanni Schiavone, sono laureato in informatica la professoresità di Pisa e come tesi ho proprio creato un prototipo di validatore automatico di accessibilità che è stato successivamente premiato da Laica come uno dei tre migliori tesi per l'uso dell'etico e dell'informatica per quell'anno e poi successivamente ho svolto per quattro anni e mezzo l'attività di assistenza di ricerca presso vari istituti del CNR in cui ho portato avanti ricerche nell'ambito dell'accessibilità e usabilità web principalmente e fra i vari progetti chiaramente mi ho portato avanti quello validatore accessibilità a cui poi è stato dato il nome di MOV e per chi ha seguito il talk ieri di Dottor Celeghin e di Agid e l'elemento centrale del progetto ricerca Watcher che lui ha citato. Successivamente ho cambiato un po' ambito e mi sono occupato di identità agitali quindi speed presso l'Agid e da qualche mese sono funzionario ICT presso la Genasta Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali che dipende al Ministro della Salute. Nonostante questo cambio di scenario la passione per la ricerca in particolare per l'accessibilità mi è rimasta addosso e quindi continuo a fare ricerca e talk sul tema accessibilità come quello che andiamo a vedere oggi e che come immagino avrete intuito dal titolo prende le mosse da una favola la favola è quella della Bella e la Bestia che probabilmente molti di voi conoscono per recenti esposizioni cinematografiche, teatrali eccetera che però vorrei per quei pochi immagino che non la conoscono comunque anche tutti gli altri vorrei andare un attimino a riprendere nelle sue linee essenziali per un po' introdurre qual è la filosofia del talk. Quindi un veloce riepilogo per tutti La Bella e la Bestia è una fiabba europea molto antica qui potete vedere la foto di un'edizione della metà del 1800 quindi quella di circa 150 anni fa e anche le immagini che vede successivamente sono edizioni dei primi del 900 quindi molto antica e chiaramente ruota attorno a questi due personaggi quello della Bella e quello della Bestia La Bella è una giovane e graziosa fanciulla chiamata in molte edizioni proprio Bella o Bella con grande fantasia e viene scritta come un po' eccentrica però dai modi gentili, di buon cuore molto devota al padre per queste sue caratteristiche sia fisiche sia d'animo è molto porteggiata da una gioia notte insomma del paese e di intorni D'altro canto la Bestia invece è un giovane principe che a causa della sua superbia arroganza viene punito, viene vittima di una maledizione che lo trasforma in un essere mostruoso dalle sembianze animalesche in questa immagine lo vediamo descritto come se fosse un ibrido fra un uomo e un cinghiale in altre edizioni cinematografiche come una via di mezzo fra un uomo e un leono comunque un felino di grandi dimensioni e in altre versioni diverse comunque sostanzialmente un essere mostruoso per cerchiarsi animalesco e proprio per via di questo suo aspetto della vergogna che ne deriva si richiude nel proprio castello anche un po' per paura e la reazione potrebbe avere gli abitanti dei dintorni che infatti in alcune versioni a un certo punto quasi provano a linciarlo cosa accade? che per varie vicissitudini il padre della Bella viene costretto a rimanere chiuso dentro il castello della Bestia allora la Bella, molto devota corre in soccorso del padre e si propone di scambiare di fare scambio di se stessa con il padre quindi vive all'interno del castello reclusa all'interno del castello e così a modo di conoscere e interagire con la Bestia e vivendo assieme scoprono che nonostante siano dei personaggi per molti versi differenti e quasi antitetici essi hanno una affinità comune si rispecchiano un po' l'uno nell'altro questa affinità poi varie vicissitudini alla fine nel momento clou della storia si rivela essere un vero e proprio amore l'uno si dichiara all'altro quest'amore spezza la medizione e ci si avvia verso l'happy ending insomma i vistori felici e contenti quindi tutto si gioca quindi in assieme in estrema sintesi fra questi due personaggi uno molto richiesto molto apprezzato molto desiderato uno recluso comunque limitato in un angolo in un suo castello che fa quasi paura e però questi due personaggi interagiscono e si rispecchiano un l'altro capiscono di avere molte cose in comune diciamo mi sono chiesto quindi se questo meccanismo può essere trasposto in un certo senso in quello che è il mondo del web in particolare lo sviluppo web e quindi mi sono domandato se esiste una bella o una bestia nel mondo del web e chiaramente siamo qui la risposta almeno per me è sì e in particolare il SEO e l'accessibilità riprendono rispettivamente il ruolo della bella e della bestia e andremo a vedere un po' perché innanzitutto dovrebbe capire per chi non la conosce cos'è la SEO o il SEO a seconda delle definizioni beh volendo scherzare può essere descritto con l'immagine che vedete qui alla sinistra dello schermo ovvero un SEO specialist che venera Google volendo dare una definizione un po' più seria la SEO è l'acronimo per Search Engine Optimization che in inglese significa ottimizzazione in modo di ricerca quindi è un processo di miglioramento la posizione di una pagina in un sito web in modo che queste pagine o il sito web venga visualizzato più in alto nei principali motori di ricerca questa disciplina io la definisco per passare in termine un po' eccentrica nel senso che non è noto come funzionano in dettaglio i motori di ricerca chiaramente ci sono problemi di segreto industriale quindi chiaramente si conosce il funzionamento generale ogni tanto viene data qualche indicazione ma i dettagli non sono noti o meglio sono noti solo a chi lavora all'interno di queste aziende che proprio questi motori di ricerca e quindi l'attività che fanno i specialisti della SEO è quella di andare un attimino a cercare di dedurre con prove tentativi e quant'altro di intuire il funzionamento di questi motori di ricerca quindi una sorta di reverse engineering quindi in certo senso è un po' eccentrica perché al contrario di altre discipline in informatica in cui si è una teoria che poi si dà a un'applicazione pratica qui invece al contrario è un processo un po' deduttivo sostanzialmente la SEO si vede in due macro attività una è quella detta delle attivizzazioni on page che sarà un po' quella che discuteremo in seguito e quindi sono quelle attività che vengono fatte all'interno delle pagine del sito per modificarne caratteristiche in modo tale che siano più apprezzabili dai motori di ricerca un'altra parte invece che non tratteremo sono quelle attivizzazioni off page che sono azioni che possono essere che sono svolte al di fuori nel sito web e che per esempio sono quelle di creare di fare attività che diciamo volgono la creazione di link da parte di altri siti verso il nostro sito promuovere le interazioni provenienti dai social network verso il nostro sito eccetera quindi attività che vengono dall'esterno rispetto al sito che cerchiamo di migliorare prima abbiamo parlato di Google ma chiaramente Google sebbene sia il motore di ricerca più comune in Europa e quindi anche in Italia non è l'unico motore di ricerca esistente sulla piazza in particolare non è neanche il motore di ricerca più usato in altri paesi esempio negli Stati Uniti è molto usato il principale ma Bing che è il motore di ricerca ha delle quote di mercato rilevanti per esempio in Russia il più usato è Yandex in Cina invece Baidu questo è dovuto anche insomma a questioni politiche di gestione della rete in questi paesi e poi ci sono anche dei motori di ricerca che hanno le caratteristiche particolari e quindi vanno a colpire delle nicchie di utenza particolari per esempio DuckDuckGo si propone di non tracciare l'attività di ricerca degli utenti quindi essere diciamo curare particolarmente la privacy rispetto ai competitor e così è un altro motore di ricerca che propone di reinvestire parte degli introiti in attività di protezione dell'ambiente e riforestazione quindi è molto usato a chi ha queste tematiche particolarmente a cuore eccetera e così via Yahoo è un altro motore di ricerca uno dei primi che successivamente ha caduto un po' in discreazia ma ancora la sua utenza e così via perché è importante la SEO? perché diversi studi scientifici hanno dimostrato che solitamente gli utenti quando fanno una ricerca sul motore di ricerca prendono in considerazione i primi risultati le prime posizioni dei risultati nei risultati di ricerca l'immagine che ho messo in questa slide è quella che viene definita in gergo una heatmap ovvero va a vedere i punti della schermata in cui un utente ha posto l'attenzione quindi si va a tracciare dove l'occhio va a colpire all'interno di una schermata con dei sistemi appositi oppure a volte le heatmap vengono create andando a vedere il punto in cui l'utente ha cliccato quindi quale link è andato a seguire nella sua navigazione e chiaramente le zone che vanno sul blu violetto sono quelle meno usate o meno visualizzate quelle invece virano verso il giallo arancione addirittura poi il rosso sono quelle invece che sono più prese in considerazione più visualizzate più utilizzate e come potete ben vedere si forma una sorta di triangolo dei colori giallo rosso che va a coprire le prime posizioni di ricerca e indica il testimonia che le prime posizioni di ricerca sono quelle più usate quindi essere nelle prime posizioni risultati dà la speranza di essere più utilizzato da chi cerca informazioni su un determinato argomento su un motore di ricerca questa situazione è ancora più evidente con l'evoluzione dell'interfaccia dei motori di ricerca questa che abbiamo presentato in questa slide è una interfaccia di Google piuttosto vecchia di parecchi anni fa quello che Google ma anche molti motori di ricerca vanno a proporre adesso sono pagine di risultati che sono molto più variegate non danno solo risultati di ricerca ma hanno dei contenuti sponsorizzati della pubblicità tra virgolette che sono diciamo questa prima macchiolina rossa più in alto quella più piccola oppure proporre sempre al motore di ricerca il link verso delle piattaforme di e-commerce che sono in qualche modo convenzionate con Google e quindi qua possiamo vedere che già ci propone dei modelli di scarpe da corsa che sono attinenti alla ricerca che è stata eseguita e quindi in realtà i risultati di ricerca veri e propri sono questa seconda macchiolina la più grande macchiolina rossa che però diciamo è al secondo posto è sulla sinistra al secondo posto diciamo dall'alto verso il basso quelli sono i motori di ricerca su cui un espertoseo può andare a lavorare quindi si può vedere che qui l'attenzione che prima era concentrata in un unico grande triangolo qua adesso è spezzettata su più elementi che vanno a disturbare l'attenzione e quindi ridurre ulteriormente le posizioni realmente prese in considerazione dall'utenza quindi è ancora più importante essere ai primi posti dei motori di ricerca per sperare di avere il traffico sul proprio sito che proviene dai motori di ricerca proprio perché è importante diciamo essere nei primi posti le aziende che fatture che lavorano nel web quindi e-commerce o simili stanno investendo molto sulla SEO questo è un grafico nel senso di qualche anno fa non sono riuscito a trovare una versione aggiornata del grafico comunque dimostrava un grafico di labor associated che è un'azienda americana che fa proprio rilevazioni di tipo economico e dimostra proprio c'è una curva crescente negli investimenti in SEO nel corso degli anni negli Stati Uniti proprio perché il web è sempre più importante gran parte dell'economia abbiamo visto anche con Covid gran parte del commercio si sta spostando sul web e quindi o comunque anche non solo il commercio ma la pubblicità che poi rimanda a un commercio fisico quindi pubblicità di negozi fisici o attività di vario tipo e quindi chiaramente si investe sempre più in pubblicità nel web ma anche nella SEO quindi per apparire nei primi motori di ricerca quindi perché la SEO ci ricorda Bella perché al pari di Bella nella storia della favola che abbiamo citato prima è Bella dal cuore d'oro nel senso che essere i primi motori di ricerca può dare uno slancio alle attività economiche di un'azienda e quindi portare maggiori profitti è corteggiata perché ogni anno si investe un'ingente quantità di denaro in SEO in varie attività in specialisti eccetera e via ecco come vi avevo detto prima è un po' accentrica perché è un'attività che non si basa su una teoria ben definita statica ma ha bisogno di un lavoro di deduzione fatto un po' sul campo e soprattutto il comportamento gli algoritmi dei motori di ricerca variano nel tempo questo perché chiaramente chi sviluppa questi motori di ricerca cerca di adeguarsi a quello che sono i trend del web una delle più grandi modifiche cambiamenti e comportamenti di ricerca fu quando si diffuse non solo l'uso degli smartphone per navigare sul web ma soprattutto la nascita dei siti responsive quindi da un certo punto di da un certo punto in poi mi sembra il 2015 si incomincia a dare dei risultati diversi a seconda se si esegue le ricerche da pc desktop oppure da uno smartphone perché i risultati variavano anche in base a quanto un determinato sito era facile da utilizzare da smartphone quindi nelle ricerche fatte da smartphone veniva premiato un po' di più quindi questo per quanto riguarda la SEO cos'è invece l'accessibilità probabilmente molti di voi all'ascolto sanno bene di cosa stiamo parlando sono interessati è sicuramente un argomento che in teoria dovrebbe essere importante per tutti il problema che spesso è purtroppo tralasciato qui vediamo un gattino molto triste perché chi ha sviluppato un sito web non ha preso in considerazione l'accessibilità finché il sito non è andato live quindi con tutti i problemi che possono derivare da questo accessibilità ha varie definizioni quella che io cito sempre e che preferisco è quella della legge stanca che è la legge italiana che è sull'accessibilità nelle pubbliche amministrazioni ma non solo e che viene definita con la capacità di sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni senza discriminazioni anche da parte da coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o particolari configurazioni a me piace questa definizione per tre motivi tre punti chiave perché il focus è la soffriabilità dei contenuti e servizi cioè il fatto che il sito o l'applicazione web ad essere in grado di erogare un servizio o un contenuto deve evitare discriminazioni che però non sono solo verso particolari tipologie di utenti quindi i sabli ma anche tecnologiche cioè un sito che mi richiede per funzionare necessariamente avere l'ultimo modello di smartphone oppure necessariamente avere una connessione a fibra ottica tot gigabit al secondo altrimenti non funziona non è accessibile quindi bisogna garantire la fruibilità anche a chi ha configurazioni tecnologiche più limitate sempre nell'ottica di una un principio di ragione di nolezza è chiaro che non si può pretendere che si navigli ottimamente utilizzando un computer di 30-40 anni fa e quindi l'attenzione è infine il terzo punto è l'attenzione data soprattutto alle persone con disabilità ma non solo appunto qui si definisce un tema importante è quello dell'accessibilità per tutti questo che è la definizione generale di tutti i sistemi informatici assume un particolare ruolo nel mondo del web perché citando le parole di chi sostanzialmente il web l'ha creato ovvero Tim Berners-Lee il direttore del V3C è quello che ha inventato il board web la forza del web è proprio nella sua universalità e quindi l'accesso universale a chiunque anche a discapito di eventuali disabilità è un aspetto esenziale del web quindi quando si parla di sviluppo web di web in tutte le sue accezioni l'accessibilità dovrebbe essere un elemento intrinseco purtroppo sappiamo che spesso non è così dal punto di vista di come gli utenti utilizzano il web in accedere al web in avviene il web quello che vengono utilizzate sono le tecnologie assistive che hanno già state citate dalla legge stanca che sono un insieme di tecnologie realizzate ad hoc per consentire a persone con disabilità di utilizzare il web io qui ne ho elencate alcuni esempi questo per esempio è una tastiera braille che veniva utilizzata soprattutto qualche decennio fa adesso un po' l'uso un po' minore comunque sostanzialmente traduceva il testo di una pagina web in carta di braille quindi ponendo le mani su questa su un insieme di piccoli pilastri che si alzavano e si abbassavano a riprodurre le lettere in braille un utente potrebbe leggere un utente non vedente chiaramente potrebbe leggere il contenuto in sito web qui vediamo un utente invece che è navio utilizzando uno screen reader un lettore di schermo quindi uno strumento che interpreta la pagina web e traduce comandi e contenuti in sintesi vocali quindi in voci in audio questo è un altro strumento viene utilizzato per far navigare a chi non ha l'uso delle mani facciamo per esempio chi è affetto a forme gravi di sla quindi non ha più il controllo del proprio corpo ma riesce a controllare la testa e soprattutto gli occhi e quindi con un sistema di telecamere che inquadrano le pupille si può usare lo sguardo come fosse un puntatore del mouse e quindi accedere a siti cliccare se hai una particolare tastiera virtuale in cui si possono comporre testi e così via infine la ricerca va avanti stanno sperimentando anche nuove forme di tecnologie assistive qui c'è un esempio di un progetto di ricerca sperimentale in cui si cerca di utilizzare un caschetto celebrale che vedete qui la persona nel lettino ha indosso e attraverso insomma dei segnali elettrici del cervello si cerca di tramutarli in comandi quindi poter operare un dispositivo elettronico tra rigolette col pensiero cioè riuscendo a avere due o tre tipologie o anche più insomma un set di azioni che è possibile comandare con il col cervello per quanto riguarda gli aspetti legali e tecnologici so che ci sono dei talk pomeriggio che affrontano più in dettaglio l'argomento e vi rimando a loro comunque sostanzialmente a partire agli anni 90 molti paesi sia europei sia ex europei hanno iniziato a promuovere leggi per imporre l'accessibilità dei siti principalmente pubbliche amministrazioni e anche alcune tipologie di soggetti privati dal 2004 in Italia in vigore la cosiddetta legge stanca che è stata successivamente rivista circa cinque anni fa di vista tecnologico e in particolare mentre prima la gestante definiva dei propri standard tecnologici con la sua ultima revisione sostanzialmente impone di seguire i dettami delle linee guida WCAG le WCAG sono le linee guida più importanti in land di accessibilità sono riconosciute internazionalmente sono la versione 2.0 uno standard ISO e la successiva versione 2.1 che è l'ultima attualmente disponibile è anche uno standard uni quindi sono proprio gli standard industriali a tutti gli effetti nonostante la legge stancre sia in vigore da oltre 15 anni purtroppo la pubblica amministrazione ma non solo pubblica amministrazione ma anche i privati ancora fanno fatica a produrre contenuti di web applicazioni che siano accessibili qua io sto riportando una tabella prelevata da uno studio scientifico di Baricelli e altri del 2017 quindi abbastanza recente in cui si andava a analizzare i siti da pubblica amministrazione di varie regioni e si davano diciamo un punteggio in base al loro grado di accessibilità e poi si stirava una classifica diciamo il calcolo del punteggio è particolare vi rimando per interessati alla lettura dell'articolo però sostanzialmente si andava a contare quanti problemi di accessibilità si rilevavano e quindi più basso è questo punteggio migliore l'accessibilità come potete vedere purtroppo si vorrebbe avere un punteggio prossimo allo zero se non addirittura a zero ma purtroppo siamo lontani allo zero specie in terminate regioni è interessante vedere che come diciamo seguendo l'esperienza di Barricelli e dei suoi collaboratori non vi è una divisione nord-sud come accade spesso in altri parametri ma diciamo la qualità è abbastanza variegata dal punto di vista geografico e i problemi in privato dipendono anche diciamo da non solo una scarsa considerazione dell'accessibilità ma anche una cattiva progettazione qui ho ripreso un tit ironico di una persona che si occupa dell'accessibilità in cui raccontava un po' la propria esperienza in maniera ironica e diceva al mese uno si dice troppo presto per iniziare a parlare dell'accessibilità al sesto mese dice oramai abbiamo fatto troppo lavoro pensare di sistemare i problemi di accessibilità è troppo difficile e lasciamo perdere quindi questo pone un po' l'importanza in cui sottolinea come è importante prendere in consenso l'accessibilità già in fase di progettazione di un qualunque progetto web quindi non è come molti considero un di più da aggiungere dopo man mano ma è qualcosa di essere presente al giorno zero anzi al giorno meno uno quando si inizia a definire i requisiti di un progetto al pari di altri requisiti dunque perché l'accessibilità ci ricorda la bestia perché nonostante le leggi l'impegno di chi come noi fa talk discute impegnato nello stilare specifiche tecniche fare ricerche e quant'altro spesso purtroppo viene considerata come una tema che è troppo complicata quindi in certo senso spaventa chi si occupa di sviluppo software un po' come la bestia spaventava a causa del sospetto gli abitanti dei dintorni del castello e quindi nonostante anche le leggi vigenti le leggi stanca che impone il rispetto dell'accessibilità di costruire strumenti accessibili all'interno pubblico amministrazione ma ripeto non solo pubblico amministrazione purtroppo l'accessibilità è in un certo senso un po' reclusa all'interno di una ristretta cerchia di persone che sono un po' sensibili al problema quindi in questo senso di reclusione di paura che può incutere nell'altro ricorda un po' la bestia quindi abbiamo descritto appunto queste due diciamo discipline del web la SEO e l'accessibilità vi ho visto come ricordano un po' i due personaggi della fiabba e che anche esso non diciamo che erano un po' antitetici a questo punto la domanda è così come i due personaggi della fiabba queste due discipline sono in realtà così differenti cioè non hanno elementi in comune e se andiamo poi a vedere gli aspetti tecnici delle due discipline in realtà notiamo che vi sono parecchie convergenze diciamo le due discipline per alcuni aspetti si rispecchiano l'altro quindi in certo senso fanno parte della stessa fiabba così come i due personaggi della 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 bestia appunto questo perché essenzialmente un motore di ricerca o quantomeno la parte del motore di ricerca che ha il compito di analizzare una pagina web e comprendere i contenuti il contesto eccetera chiaramente è un strumento software quindi non è dotato di sensi come la vista l'udito può avere a seconda del grado di quanto è sofisticato può non avere strumenti per analizzare può essere non essere in grado di analizzare contenuti molto complicati al palo di persone con ritardo nella comprensione del testo o magari può tecnicamente essere in grado però non vuole applicarlo per motivi di performance quindi diciamo sotto molti punti di vista il modo in cui il motore di ricerca esplora cerca di incomprendere una pagina web è per molti aspetti simili a quello di un utente con determinata disabilità che cerca al tempo stesso di navigare quella stessa pagina web e di utilizzarla eccetera come conseguenza appunto in molte case le linee guida le cosiddette best practice di sede accessibilità spesso danno rilevanza agli stessi aspetti talvolta motivazioni molto simili per non dire uguali a volte motivazioni diverse ma che sono coincidenti nei prossimi slide appunto andiamo ad analizzare alcuni esempi chiaramente non farò un elenco esaustivo per motivi di tempo però sarà interessante andare a vedere un paio di casi il primo caso è quello del title il tag title che è essenzialmente il titolo che ci appare la parte alta del nostro browser e che costituisce l'intitolazione della pagina web e sostanzialmente è il primo elemento che sia un crawler ovvero quella componente del motore di ricerca che analizza le pagine web e un utente che prova ad accedere al sito web magari come uno screen reader sono la prima informazione che ricevono e quindi essendo prime azioni che ricevono anche quella che dà il contesto della pagina che stiamo visualizzando cioè se il title della pagina è prevenuta pasticceria schiavone visto che io mi chiamo schiavone mi attendo di leggere al suo interno informazioni riguardo a dolci pasticceri di vario tipo oppure gli orari di apertura informazioni collegate non mi aspetto chiaramente di leggere informazioni relativa alla coltivazione delle patate o delle cipolle inoltre diciamo una delle indicazioni che vengono date sia dal best practice della SEO sia nelle linee guida dell'accessibilità è quella di non utilizzare lo stesso title per le varie pagine di un sito web questo perché per un utente disabile crea confusione perché non si riesce a distinguere fra le varie pagine di un sito web quando uno naviga viene riproposto sempre lo stesso titolo e anche i motori di ricerca è una cosa che non apprezzo non viene considerato come indice di bassa qualità quindi qui vediamo per esempio mentre i primi due elementi erano simili per non dire identici il terzo criterio è leggermente diverso ma in certo senso coincidente un altro aspetto diciamo che viene preso in considerazione dalle best practice di SEO e accessibilità e quindi in un certo senso coincide è l'uso delle alternative testuali nelle immagini cosiddetto attributo alto infatti sia l'utente disabile che appunto naviga il sito web ma chiaramente di un non vedente non è in grado di riconoscere il contenuto di un'immagine e quindi può avere informazioni su quelle immagini solo tramite la descrizione che è associata appunto alternativa testuale sì anche il motore di ricerca non è in grado sostanzialmente di riconoscere il contenuto di un'immagine ci sono anche qui delle ricerche in questo campo ma ancora si limitano a riconoscere figure se l'immagine contiene un albero una persona un animale ma non riesce a distinguere per dire fra Marilyn Monroe e Winston Churchill quindi l'alternativa testuale invece dà anche al motore di ricerca il contesto l'indicazione di cosa contiene quella immagine che può essere poi utilizzata per vari scopi per esempio Google c'è la propria sezione dedicata alla ricerca di immagini quindi chiaramente quando faccio una ricerca per immagini questa informazione è utile a Google può diciamo appunto dare anche il contesto delle immagini che parliamo e in caso della sezione anche una sua categorizzazione e appunto come abbiamo detto può essere può definire ulteriormente il contesto della pagina o essere usato su Google Images un altro attributo che viene preso in considerazione da sezione accessibilità è l'indicazione della lingua ovvero l'attributo Leng è un particolare attributo viene posto tra i primi tag della pagina che specifica in quale lingua è la pagina che andiamo a analizzare quindi se è una pagina scritta in inglese in italiano o in qualunque altra lingua quindi gli screen reader utilizzano questa informazione per attivare il modulo di traduzione da testo a voce per quella particolare lingua e quindi permette di leggere la pagina con un accento corretto e coerente facilmente comprensibile dall'utente non so se avete mai provato a far leggere uno di questi software di traduzione da testo ad audio da text to speech un testo scritto in una lingua con le impostazioni per un'altra lingua chiaramente l'audio che viene generato è totalmente incomprensibile e quasi inutile per quanto riguarda la SEO chiaramente il motore di ricerca chiaramente utilizza questa informazione anche lui e può premiare il sito scritto in una determinata lingua se per esempio la ricerca viene fatta con testi in quella lingua o proviene da un'azione in cui quella lingua è prevalente oppure in base alle impostazioni del browser quindi per esempio se io cerco un termine dall'Italia con il browser impostato in italiano magari un sito scritto in italiano che tratta quell'argomento è un attimo più premiato mentre un altro utente fa la stessa ricerca per lo stesso identico termine magari un nome di un brand dicendo un nome di una disciplina però dall'Inghilterra con impostazioni in inglese magari la sarà premiato un altro sito perché i contenuti saranno un'altra lingua quindi cerco di scegliere siti che hanno la lingua più vicina a quello dell'utente e anche nel caso di siti multilingua quelli che vengono utilizzati da grossi brand per cui ogni paese ogni lingua ha un sito diverso il modo di ricerca quindi può automaticamente scegliere quale versione del sito proporre o automaticamente reindirizzarlo per quella particolare versione quindi agevolare l'utente andiamo avanti abbiamo l'uso delle immagini vettoriali i file svg che sono particolari tipologie di immagini che sono molto utili non chiaramente per contenuti tipo pittorio quindi la foto paesaggistica eccetera ma può essere molto utile per visualizzare grafici loghi o informazioni di questo tipo e hanno la proprietà i file svg nascono proprio con questa caratteristica che zoomandoli quindi aumentando la loro dimensione non sgranano non hanno quell'effetto tipico che invece altri formati l'immagine granulosa si perde il dettaglio mentre nell'svg anche zoomando l'immagine quello che fanno solitamente gli ipovedenti non si perde informazioni il dettaglio non si perde quindi viene sempre viene ridisegnata l'informazione il grafico l'immagine nuovamente non perdendo dettagli e quindi è molto più utile per loro dal punto di vista dell'aseo questo è un impatto perché solitamente la stessa informazione codificata in svg o codificata in altro formato è molto il peso del file è molto minore è molto ridotto sostanzialmente svg sono delle direttive di tipo grafico cioè il tipo disegna un arco con queste caratteristiche disegna una linea con queste caratteristiche quindi sono delle direttive molto elementari con tre altri formati invece prendono l'informazione pixel per pixel poi cerca di comprimerla ma comunque è un modo di trasmettere le immagini un attimino più pesante e quindi diciamo laddove è possibile laddove il contenuto si presta utilizzare il file svg è più performante e quindi viene premato dai motori di ricerca anche qui l'uso di una comunicazione semplice come abbiamo detto un testo scritto minera chiara con linguaggio semplice evitando di concatenare troppe frasi ma avendo un numero di frasi limitato chiaramente aiuta utenti che hanno limitazioni cognitive o disturbi dell'attenzione allo stesso tempo un un motore di ricerca il cui scopo è quello di cercare di comprendere il contenuto di una pagina web capire il contesto e quindi poi eventualmente riproporlo a chi è interessato a quel contenuto a quel contesto chiaramente se il contenuto è scritto bene è semplice diciamo l'analisi anche per un motore ricerca è semplificata considerate che magari ci sono effettivamente algoritmi di analisi del testo molto potenti molto raffinati ma i motori ricerca sono gli strumenti che cercano di categorizzare esplorare fare una sorta di censimento del web il più velocemente possibile in maniera più completa possibile quindi ci cerca anche di bilanciare quello che è la necessità di essere molto veloci con l'impegno computazionale la raffinatezza dei motori ricerca quindi non è detto che anche una grande azienda voglia spendere molte risorse per avere analisi del testo particolarmente raffinate considerate dal loro punto di vista il vostro sito web per quanto per voi se è il migliore del mondo per loro è un sito web su milioni del web quindi se non è facilmente comprensibile in modo di ricerca passeranno un altro quindi è importante scrivere bene anche i testi poi abbiamo parlato appunto del responsive design perché è importante a parte il fatto che molti utenti come disabili come altri utenti non disabili utilizzano di smartphone e quindi diciamo anche per loro c'è già nell'utilizzo di un smartphone o del tablet un uso semplificato ma in particolare nel caso di utenti ipovedenti quindi sono soliti zoomare molto i siti durante l'ora la navigazione la dimensione la scala del browser se un sito è responsabile quindi anche zoomando e il contenuto viene ridistribuito e quindi non si perde la navigazione è chiaramente facilitata quello che accade per i siti non responsive è se provate a zoomare provate a farlo anche voi a casa i browser solitamente permettono di zoomare la dimensione di una pagina web quello che succede è che se il sito non è responsive l'immagine viene semplicemente ingrandita e quindi per seguire il test o il contenuto o diciamo i menu di navigazione quello che l'utente ipovedente deve fare è continuamente scrollare a destra a sinistra in alto a destra per cercare l'informazione o lo strumento di navigazione che gli serve e quindi viene chiaramente reso tutto molto più difficile invece il responsive design ridimensioni contenuti il modo di navigazione e tutto viene reso più semplice dal punto di vista dell'aseo appunto abbiamo detto il responsive design garantisce una buona esperienza d'uso anche su dispositivi mobili e viene premiato apprezzato premiato soprattutto nelle ricerche eseguite da dispositivi mobili quindi smart e tablet considerate anche che già da vari anni la mole di ricerca che vengono effettuate tramite tablet e smartphone ha superato di gran lunga le ricerche che vengono eseguite da desktop quindi qualunque sia la vostra finalità promuovere i vostri e-commerce promuovere il nostro brand promuovere la vostra azienda la vostra persona le vostre attività oggigiorno è più probabile che vi cerchino tramite smartphone che da desktop quindi il responsive design è sempre più importante un altro elemento sono le intestazioni quindi l'ordine delle intestazioni dell'importanza dei testi anche qui vengono gli screen reader vengono agevano la navigazione quindi danno definisco l'importanza la semantica dei vari testi quindi non è un testo piatto ma chiaramente si riesce a distinguere fra titolo sottotitolo corpo del testo quindi si dà una gerarchia del testo semplificando la navigazione per chi usa uno screen reader e al stesso modo danno questa gerarchia importanza anche per i motori di ricerca quindi questa gerarchia viene utilizzata anche da loro per comprendere la rilevanza dei vari pezzi del contenuto quindi se nel titolo ho una particolare parlo non cito un particolare argomento durante le ricerche sarà preso più in considerazione di lo stesso contenuto che viene citato semplicemente nel testo quindi un livello di gerarchia del testo più bassa quindi utilizzare bene le gerarchie delle intestazioni permette di distribuire meglio l'importanza delle varie parti del testo e quindi dare informazioni più corrette al motori di ricerca e quindi fare in modo che vengono utilizzate più correttamente al motori di ricerca stessa cosa con i legamenti ipertestuali in particolare col testo di ancoraggio ovvero il testo che viene presentato quando come link il testo su cui noi andiamo a cliccare per seguire un determinato link questo testo di ancoraggio viene appunto letto di screen reader e quindi da un anteprime in un certo senso di quello che seguendo quel link noi andiamo a poi il contenuto della pagina su cui noi andiamo a atterrare chiaramente se diciamo clicca qui non ci dà un'informazione se invece diciamo clicca qui per andare sul sito personale di Antonio Giovanni Schiavone sappiamo già abbiamo una preview un'anteprima di quello che della funzione che ha il link quindi dove ci porterà e quindi un testo generico prive accuratezza non dà nessuna informazione addirittura può confondere l'utente abbiamo cerato per esempio il clicca qui in maniera quasi speculare avviene un motore di ricerca anche lì il motore di ricerca c'è dal testo del link cerca di capire dove andremo a finire quindi quel link dove ci porterà e inoltre se più link rifinisco la stessa pagina però con con contesti relativi il motore di ricerca può considerare più rilevante quello che aveva come testo di ancoraggio un testo che è più simile a quel contesto spiego meglio uno stesso sito un sito personale di Antonio Giovanni Schiavone magari sul sito Accessibility Day c'è il link vai al sito di Antonio Giovanni Schiavone mentre un altro sito magari il sito di mio cugino c'è segui questo bellissimo link chiaramente il sito accessibile il link del sito Accessibility Day è più chiaro più comprensibile anche il motore di ricerca e quindi viene in un certo senso premiato meglio crea una connessione migliore fra il mio sito e il sito Accessibility Day più forte più chiara rispetto a quello di mio cugino queste che ho presentato sono delle tecnologie diciamo dei parallelismi che sono già noti già ben testimoniati in letteratura sia per quanto riguarda SEO sia per tanta accessibilità ci sarebbero tanti altri ma insomma per brevità ho evitato di andare avanti cito solo altri due casi di cui non sappiamo bene se già sono stati presi in considerazione soprattutto il motore di ricerca proprio per le motivazioni dicevo prima o se sono già attivi io le propongo come spunti futuri da prendere in considerazione chi si occupa sia di accessibilità sono già fatti noti sia di SEO in particolare l'uso dei sottotitoli dei sottotitoli del video chiaramente quando un non udente accede a un video non è in grado di sentire l'audio ma se diciamo chi ha prodotto quel contenuto video ha associato un sistema di sottotitolatura può comunque prendere il comprendere il significato di quel video allo stesso modo i motori di ricerca possono comprense possono leggere i sottotitoli e quindi anche loro dare un contesto a quel video è vero che molti motori di ricerca riescono oramai a leggere l'audio in un video e tradurlo in testo però sappiamo bene chi l'ha provato questa sottotitolatura automatica non è sempre ottimale spesso sbaglia torniamo al discorso di prima non sappiamo quanto sforzo un motori di ricerca vuole dare al vostro contenuto quindi magari questa funzionalità non è implementata non è implementata in maniera limitata se noi già forniamo il sottotitolo il motori di ricerca è già bello e pronto e il contenuto del testo quindi può già fare tutte le considerazioni nel caso inoltre se noi siamo un grosso brand che magari abbiamo una platea di nazionalità varia quindi ci vogliamo autentico che utilizzano vari linguaggi vari link con i sottotitoli è possibile fornire informazioni quindi la trascrizione in varie lingue quindi questo ci agevola se abbiamo una platea variegata dal punto di vista della lingua ultimissima slide di questo argomento è l'uso dei dati strutturati cosiddetti schema.org sono informazioni che vengono usate molto in motori di ricerca ultimamente perché appunto aggiungono semantica categorizzazione ai contenuti di una pagina che può essere utilizzati nella comprensione della pagina stessa o anche in altre funzionalità evolute tipo i rich snippets sono le anteprime che abbiamo nei motori di ricerca i chronology graph e altre tecnologie che si occupa di se la conosce bene quanto al campo accessibilità ancora questa informazione non è molto usata però potrebbe essere uno spunto per utilizzare soprattutto con i screen reader perché aggiunge ulteriormente semantica nell'analisi e nella navigazione di un motore di ricerca questo è un po' anche una cosa sperimentale appunto di questa accessibilità arriviamo un po' alle conclusioni visto che insomma mancano dieci minuti cerchiamo di andare un po' veloce se l'accessibilità sono due aspetti distinti del web nati per recensioni diverse e finità diverse in generale un sito perfettamente accessibile non è necessariamente totalmente ottimizzato in motori di ricerca e al contrario un sito perfettamente ottimizzato per i motori di ricerca non è necessariamente accessibile al 100% detto questo abbiamo visto che alcuni aspetti si sovrappongono quindi questo significa che se abbiamo un sito perfettamente accessibile abbiamo già facilitato il lavoro a motori di ricerca o proprio questo componente il crowd che analizza i siti web e quindi anche migliorare la SEO di un sito che è già accessibile è più facile rispetto a un sito non accessibile almeno quanto riguarda quello delle attimizzazioni home page che è quella parte che abbiamo citato quella divisione che abbiamo già parlato prima quanto riguarda rendere accessibile un sito già attimizzato lato SEO può essere un po' più semplice quello va visto diciamo caso per caso a seconda del tipo del progetto e delle scelte implementative comunque diciamo che è già qualcosina quantomeno è stata fatta io sono avrei concluso siamo arrivati al momento delle domande se qualcuno le ha già poste sul canale YouTube vi lascio solamente i miei contatti per chi vuole contattarmi in seguito per eventuali informazioni e in particolare come già dicevo io continuo un po' in privato l'attività di ricerca e ho lanciato un po' questo sondaggio che va un attimino a cercare di comprendere quel rapporto tra gli sviluppatori italiani e il tema dell'accessibilità quindi se siete degli sviluppatori se avete degli amici sviluppatori sia che si occupano di accessibilità sia che non hanno una minima idea di cosa sia anzi da un certo punto di vista ancora più interessante vi chiederei di compilare questo piccolo sondaggio su google per avere dei dati per il mio lavoro e distribuirlo appunto a altri amici e conoscenti sviluppatori e magari l'anno prossimo potrei portare i risultati di questa ricerca nella prossima edizione di Accessibility Day io ho concluso non so se Laura ha qualche domanda Sì Giovanni Antonio Giovanni grazie per la presentazione quindi come abbiamo visto SEO e accessibilità vanno quasi di pari passo abbiamo alcune domande allora Brunella Manzardo ci chiede intanto ti ringrazio per la presentazione utilissima e ti chiede qualche sito da tutta per argomento allora sicuramente ma non chiaro se è solo su questo rapporto o in generale sui due temi distinti sul rapporto qualcuno l'ha preso in considerazione se fai un po' di ricerche sul web qualche elemento si trova anche qualche piccolo articolo magari se mi contatta magari lo ritrovo e glielo rimando diciamo che questa correlazione ancora non è molto evidenziata sicuramente per chi interessa l'accessibilità sicuramente i riferimenti principali sono a parte la gestanca le normative per quanto riguarda aspetti legali e sicuramente il sito il v3c le vcag e anche gli altri documenti tecnici sull'argomento oltre chiaramente ai vari appassionati sì c'è anche una domanda da parte di Caterina De Jacobis che chiede è utile anche usare url che riducano al minimo i parametri dinamici giusto? sì in generale per quanto riguarda l'asseo sì chiaramente migliora per quanto riguarda l'accessibilità dipende credo non sia così può migliorare va visto un po' caso per caso in generale male non fa quindi sicuramente è un'ulteriore semplificazione magari è un po' meno rilevante rispetto alla seo però sicuramente poi ci ulteriormente tende a confondere meno perché chiaramente url è particolarmente strane o con poco contenuto chiaramente possono confondere l'utente disabile ok sembra non ci siano altre domande non so se vuoi aggiungere qualcosa beh diciamo più che altro la filosofia che la motivazione mi ha portato un attimino a portare questo contenuto diciamo questa presentazione è un attimo quello di promuovere cioè far capire un po' questi due aspetti non sono correlati quindi diciamo come strumento per spingere l'accessibilità quello che spesso sento dire da colleghi sviluppatori magari sono anche sensibili alla tematica però dicono però ho difficoltà a spingere questa tematica nel mio lavoro il cliente lo vedo solo come un extra costo eccetera visto che queste due discipline alla fine non sono così distanti hanno elementi comuni hanno diciamo una loro correlazione quando andate da un cliente se lavorate chiaramente nel privato cercate di poter promuovere un pacchetto unico dire ok ti progettiamo un sito che contenga entrambe le caratteristiche in quanto già diciamo non è un doppio lavoro ma parte del lavoro è già condiviso quindi diciamo l'extra tra virgolette è contenuto al di là del fatto di evidenziare che come sappiamo intorno circa il 15% della popolazione è disabile quindi avere un sito non accessibile tende a eliminare una parte di potenziale clientela e potenziali utenti proprio l'idea di promuoverlo con un unico pacchetto visto che la è molto desiderata utilizzare se mi passa il termine un po' come cavallo di troia la SEO per inserire anche il tema accessibilità nel proprio lavoro nelle proposte verso il cliente può essere una chiave per spingere l'accessibilità anche in un contesto come quello del privato dove non essendoci obblighi legali abbiamo visto che anche laddove ci sono ci sono tanti problemi ma laddove non ci sono neanche questi obblighi legali spingere l'accessibilità è ancora più difficile questa è un po' la filosofia il vero succo della presentazione il messaggio che volevo l'idea che volevo far passare c'è Simone che nel frattempo ci ha chiesto se ci sono differenze tra la nostra normativa e le linee guida europee a parte rimandare al talk pomeriggio che se non sbaglio tratta proprio di queste tematiche oggigiorno no nel senso che tutto è nato da una disciplina europea proprio l'input principale non è stato dei singoli stati europei ma è stato proprio dalle iniziative a livello europee che poi i singoli stati hanno recepito nel corso degli anni in maniera all'inizio differente se andiamo a vedere le BTV BITV tedesche sono un po' diverse la legge stanca poi nel corso degli anni con queste revisioni sono andata a convergere io ho pubblicato disponibile online un piccolo trattato che proprio si focalizza sugli aspetti legali dell'accessibilità si chiama l'accessibilità pubblica amministrazione se interessato uno può andare a leggere chiaramente è di qualche anno comunque è esattamente il contrario è stata l'Europa che ha dato un impulso ai singoli stati europei e che poi hanno recepito e poi nel corso del tempo si sono unificati quindi grosse difficoltà grosse differenze non ce ne sono all'interno dell'Europa se andiamo a analizzare invece gli standard dei leggi europei con quelli per esempio americani lì c'è molta differenza già a livello tecnico ci sono alcune differenze non niente di trascendentale perché la fin fine della materia è quella però le linee guida section 508 che sono le linee guida statunitensi e quelle le WCAG che sono quelle utilizzate in Europa hanno delle differenze e comunque diciamo tutta la giurisprudenza statunitense ha proprio un'impronta molto diversa quella europea quindi sono proprio due oggetti un po' diversi ok ultimissima domanda al volo Giordano ci chiede se collegare un sito con un profilo social con molti follower aiuta a migliorare la SEO o visualizzarlo più in alto nel motore di ricerca allora questo chiaramente dipende sempre dal motore di ricerca in particolare se il motore di ricerca ha le tecnologie per poter diciamo avere contezza di questa interazione di questo flusso che viene dai social verso un determinato sito i principali motori di ricerca parliamo di Google Bing ne tengono conto quindi sicuramente se uno va a vedere il best practice della SEO indicano appunto di promuovere anche l'aspetto social diciamo l'interazione di utenti e social verso un determinato sito e tutta quella disciplina che ho citato prima come off page appunto perché si tratta di spingere diciamo l'uso l'interazione dall'esterno verso il nostro sito quindi per la SEO sicuramente rilevante per l'accessibilità tendenzialmente no infatti non l'ho citata ma in generale tutte le attività off page non hanno una così grande relazione all'accessibilità al contrario di quelle home page di cui ho discusso ok grazie mille grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti